Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità Metro A, conclusa la manutenzione delle scale mobili, è stata riaperta al servizio viaggiatori, lo ricordiamo, la stazione di Vittorio Emanuele. A proposito di fermate sempre della Metro A per interventi di riqualificazione, dal 15 luglio sarà chiusa la stazione di Spagna, dal 22 luglio poi chiuderà la stazione di Ottaviano. Ulteriori dettagli e il calendario dei lavori sui siti di romamobilita.it e atac.roma.it.